Grazie Presidente, perché forse è il caso che quest'Aula decida che cosa vuole fare, perché Movimento 5 Stelle non è comprabile, non gli si può chiedere nulla in cambio per smettere di discutere questo decreto che ha degli effetti che danneggiano cittadini e comuni, nonostante le bugie che la maggioranza vuole continuare a raccontare. Per cui io Presidente vorrei che lei cercasse insieme alla maggioranza di capire che cosa vogliono fare, cioè se la decisione di come procedere è una decisione interna di partito un'altra volta, come quella che ha fatto cambiare la Presidenza da Letta a Renzi, quindi una lite di partito, fatelo ma fatelo fuori da quest'Aula, perché a questo punto diventa rilevante. Se il problema di far decadere questo decreto o meno è Marino, il sindaco di Roma, allora vedetevela con lui, ma decidete ora e adesso che cosa vogliamo fare.